ok buongiorno a tutti e ben ritrovati allora oggi in questa mezz'oretta che siamo insieme parleremo di trading e la sfida per quello che mi riguarda è quello di cercare di descrivervi una strategia che abbia due caratteristiche la prima è che sia profittevole e quindi che guadagni i soldi con un basso profilo di rischio quindi non solo che guadagni ma che guadagni in modo con un equilibrato rapporto di rischio rendimento la seconda caratteristica che mi è stata richiesta espressamente è quella di fare una strategia semplice base cioè che chiunque anche il neofita possa replicare con successo anche senza possedere software particolarmente chiamiamoli costosi o professional quindi senza avere tre station e mi broker multichats eccetera e quindi questa è la sfida che mi è stata attribuita speriamo di esserci riusciti allora partiamo subito io non mi sono presentato sono gabile bellelli sono nasco come trader poi sono diventato in realtà nel corso del tempo un investitore oggi io sono all 80 per cento un investitore 20 per cento trader per dare un peso su quello che il mio patrimonio lavoro su tutti gli strumenti finanziari lavoro dalle obbligazioni oggi poco perché purtroppo il mercato è quello che è lavoro sull'azionario italiano soprattutto americano come vedrete tra un attimo lavoro su fiusos particolare opzioni e cioè derivati scusate opzioni e fiusos e certificates non solo ma anche una bella fetta da mia operatività va in etf quindi giusto per dare un richiamo sono un approccio meccanico quindi un approccio basato sulla matematica tutto quello che vedrete dopo è frutto di statistica quindi analisi di dati per vedere se le strategie guadagnano o perdono e se guadagnano in che modo guadagnano e il mio approccio lo chiamo da buon parli di famiglia vuol dire che ovviamente devo avere un rendimento positivo ma strizzo l'occhio a una oculata gestione del rischio credo che sul lungo periodo la vera discriminante per un investitore per un trader sia gestire sapientemente il rischio questo è il dato saliente quindi quello che mi sta più a cuore parliamo però di trading in questo caso specifico qual è il primo errore del trader beh cercare la strategia perfetta cioè quella strategia che funziona no urbi e torbi che funziona su indici su titoli su materie primo su valute che funziona su un grafico a 5 minuti come a 15 come sul giornaliero o in momenti di alta di bassa volatilità a rialzo ribassa in laterale purtroppo una strategia no che cura dall'autostima alla prostata in pratica non esiste state pur tranquilli non l'unica strategia che sembrava funzionare ovunque è costata credo l'ergastolo amadov no era una truffa no questo per intendersi quindi la strategia infallibile che funziona ogni contesto non esiste non cercate l'abbiamo perso tutti tempo a cercarla non esiste o è nascosta talmente bene che forse non vale la pena cercarla vi faccio un esempio prendiamo una strategia quella che vedete in sfondo in questo momento non ha importanza che strategia sia il concetto è che è una strategia che sia applicata all'indice sp500 quindi all'etf dell'indice sp500 avrebbe prodotto vedete un equity line crescente quindi una strategia che potremmo definire profittevole questa stessa strategia se esistesse un motore robusto che funziona per ogni sottostante noi la potremmo tranquillamente applicare con un click di tre station a ogni sottostante e lo possiamo fare qui funziona bene se io l'applico allo stesso prodotto cioè sempre all'etf spy cioè l'etf con smp come sottostante però mentre prima avevamo il grafico giornaliero qui abbiamo il grafico settimanale ma il sottostante è lo stesso la strategia è la stessa eppure nel primo caso guadagna nel secondo perde ed è lo stesso approccio faccio le stesse identiche cose però una la faccio su un grafico daily giornaliero e sull'altro sul grafico settimanale torniamo sul grafico giornaliero andiamo a vedere su altri sottostanti questo è su un titolo a t e t non funziona ha funzionato vedete all'inizio poi ha perso soldi questa è l'equity line è in pratica l'andamento della strategia del vostro conto corrente se aveste utilizzato questa strategia se l'aveste seguita nasdaq e qui funziona da una buona a una buona equity da un buon risultato futures però in questo caso obbligazionario nine andamento sì c'è il segno più ma non è particolarmente brillante oro materia prima nine non funziona ed è sempre la stessa perché non funziona era una buona strategia il primo grafico aveva una buona equity line voi non sapete le altre metriche ma aveva un buon una buona profittabilità un buon everestrade aveva un drawdown contenuto eppure come mai non funziona per un motivo molto semplice che i sottostanti non sono tutti uguali ogni sottostante ha un carattere diverso dagli altri ma se ci pensate così anche nella vita quotidiana quando andate al bar le persone che avete di fronte sono tutti uguali no se incontri un amico che è timido per rompere il ghiaccio non vai lì a dargli una pacca sulla spalla perché ovviamente questo si chiude a riccio si inibisce se vuoi instaurare un dialogo come si dice efficiente ciao buongiorno come stai tutto bene cioè entri con un tono soft invece al contrario sai se un amico è particolarmente esuberante ecco la pacca sulla spalla è un'ottima soluzione per rompere il ghiaccio cioè nella vita quotidiana abbiamo mille precauzioni ci chiediamo qual è la forma di comunicazione più efficiente per questo che nasce la comunicazione non verbale la pnl la psicologia eccetera per rendere più efficiente la comunicazione ecco sui mercati finanziari la stessa cosa dobbiamo capire qual è il carattere del sottostante che abbiamo di fronte faccio un esempio fiat eterna li vedete in sfondo sono due titoli big entrambi italiani apparentemente una strategia che funziona su uno dovrebbe funzionare sull'altro eppure applichiamo una strategia trend follower o breakout che dir si voglia cioè che compra le rotture di resistenza e va short la rottura dei supporti la classica analisi tecnica per intendersi no si chiama approccio breakout c'è una resistenza quando la rompe compro c'è un supporto viene rotto ribasso vado short questa strategia se io l'applico su fiat vedete grafico di sopra ottendo un equity line crescente c'è questa strategia guadagna se io questa stessa strategia l'applico su terna grafico di sotto già il colore dell'equity rosso sangue rende l'idea perde soldi perché questo perché i due titoli hanno due caratteri diversi fiat ha un carattere breakout si dice in gergo tecnico trend follower cioè reagisce bene alle strategie che prevedono di comprare la forza comprare la rottura di resistenza al contrario invece terna è un titolo che viene definito come carattere min reverting cioè un titolo che conviene comprare su debolezza e rivendere sul rimbalzo sono due approcci diversi il giorno e la notte breakout compra la forza la rottura di resistenza min reverting compra la debolezza sono due approcci completamente diversi quindi la prima cosa che noi dobbiamo fare sui mercati finanziari è partire dal presupposto che un'unica strategia non esiste perché sono diversi i sottostanti su cui noi le applichiamo quello che il bravo trader deve fare è partire da un presupposto che esistono contesti di mercato diversi sottostanti diversi e quindi dovremo applicare determinate strategie ad ogni determinata tipologia di sottostante quindi se abbiamo dei sottostanti che hanno una spiccata direzionalità beh applicheremo le strategie di breakout le strategie trend follower l'esempio classico sono le materie prime le materie prime ad oggi loro penso è uno degli asset più trend follower più breakout che esista oppure se noi invece lavoriamo su titoli che per una bella fetta del tempo sono in assenza di direzionalità o comunque che hanno un andamento come dire regolare nel rialzo ecco che l'approccio min reverting cioè quello di comprare la debolezza tende a funzionare bene l'esempio classico del min reverting è il mercato americano l'S&P 500 il nasdaq sono indici sfacciatamente min reverting le principali azioni del dow jones e dell'S&P 500 sono min reverting mcdonald apple dopo ne vediamo una serie johnson johnson procter and bamble colgate insomma tutti quelli che vi vengono in mente sono min reverting conviene nettamente comprarli su debolezza poi ci sono le fasi di alto di bassa volatilità e anche qui ci sono degli approcci diversi se sono titoli molto volatili beh in genere le strategie di volatility breakout sono da preferire le strategie di volatility breakout ci sono varie tipologie però in genere sono strategie dove non vai a lavorare solo sui livelli di prezzo cioè compro la rottura di resistenza ma quel livello di resistenza non è un livello solo di prezzo viene modificato in funzione della volatilità quindi tu avrai un livello di resistenza che è prezzo più volatilità ve la sto semplificando in modo un po brutale ma il concetto è quello per cercare di evitare falsi segnali eccetera ecco i volatility breakout su titoli molto volatili tendono a funzionare poi c'è una fase di bassa volatilità ecco una bassa volatilità vi conviene stare fermi perché perché se fate trading avete bisogno di titoli che si muovano avete bisogno di oscillazioni di prezzo se voi comprate il titolo sta fermo beh o guadagnate poco o perdete in entrambi i casi avete pagato le commissioni alla vostra banca che è molto contenta di avervi come clienti ma non è un vostro interesse se guadagnate guadagnate poco e su quel poco ci pagate le tasse se perdete perdete sui titoli poco volatili o le fasi di giornata se fate intraday dove c'è poca volatilità penso all'ora di pranzo in genere conviene non operare quindi pensare di applicare la stessa strategia è sbagliato quello che dovete fare è capire il carattere sottostante ripeto sono due tipologie mi reverting e breakout e in funzione di quello andare a operare quindi a secondare il carattere del sottostante questo è il primo aspetto dopo lo riprendiamo è il primo tassello della strategia di oggi secondo tassello sui mercati finanziari esistono i bias cosa sono i bias sono dei movimenti ricorrenti che esistono ce ne sono di tanti tipi oggi ve ne faccio vedere uno questo è il grafico dell'andamento settimanale dell'indice americano s&p 500 qui in basso trovate giorno per giorno della settimana le fasce orarie e qui il suo range di escursione che cosa possiamo notare di questo indice notiamo che c'è una giornata che è particolare che è nettamente rialzista ed è il martedì grafici di questo tipo li trovate quindi che vanno a campionare i giorni della settimana a parte che sono gratuiti questo ad esempio è fatto da dal sito che si chiama introday seasonal punto com e li potete anche fare a pagamento li elaboro anche per i fatti il mio pagamento però di fatto esiste già una buona base di analisi gratuita e dicevo lo potete fare per qualsiasi asset ad esempio qui l'sp 500 è sfacciatamente rialzista il martedì un'altra giornata tendenzialmente rialzista è il giovedì l'oro ad esempio è rialzista il venerdì il natural gas questo è interessante ha delle esplosioni di volatilità il giovedì perché il giovedì perché esce un dato cruciale e quando esce questo dato a seconda che sia positivo o negativo fa esplodere il titolo quindi su il giovedì per dire si può lavorare in volatility breakout sul natural gas è una materia prima a carattere breakout si lavora cercando l'esplosione di volatilità un volatility breakout applicato soli l'intradale giovedì è una buona soluzione potremmo trovare una strategia di questo tipo per ogni giorno della settimana per tante materie oggi ci concentriamo sul sull'sp 500 quindi sul mercato americano quindi noi sappiamo che il mercato americano la prima informazione che vi ho dato è che un mercato mi reverting c'è un mercato che conviene comprare su debolezza e rivendere sulla forza seconda informazione c'è un bias rialzista il giorno di martedì possiamo unire queste due informazioni che non sono di pancia sono basate sui numeri per creare una strategia assolutamente sì cosa possiamo fare uniamo appunto il carattere sottostante e il bias applichiamo quindi un modello mi reverting dove in uno specifico una specifica chiamiamola così finestra temporale all'interno della settimana se è lunedì io ve la condisco in un modo la strategia sta in piedi dopo ve la declino in altri modi però la potete comunque gestire nello stesso modo dicevo se è lunedì e il valore dell'rsi a due periodi l'rsi è il famoso indicatore di will da quello di per comprato di per venduto settato a due periodi quindi di brevissimo è minore di 20 quindi vuol dire se siamo al giorno di lunedì e siamo in iper venduto di breve compra se avete la possibilità di seguire il mercato in tempo reale per noi è dopo cena quando il mercato americano chiude ha operato in chiusura ma in realtà la strategia sta in piedi anche se comprate il giorno successivo magari con un ordine limit cioè se il prezzo scende sotto il minimo di lunedì compra sta in piedi lo stesso la strategia con risultati leggermente diversi numericamente ma sta assolutamente in piedi poi cosa fai una volta che hai comprato mantieni il titolo in portafoglio fino al mercoledì dove puoi permetterti il lusso di vendere o in apertura o a fine seduta la strategia sta in piedi comunque io qui la testo con vendi al mercoledì in chiusura di seduta ma se voi vendete anche in apertura del mercoledì sta in piedi identica cioè produce un equity line delle buone metriche uguali lo stop loss ci vuole sempre 5 per cento va benissimo volete stare più larghi state su un 10 tutti i test che vedrete sono stati fatti con 20 mila euro d'operazione senza reinvestimento degli utili ogni singola operazione 20 mila dollari questa strategia dicevo sta in piedi in altri modi io qui ho messo se e l'rsi è minore di due ma potevo tranquillamente mettere se oggi è lunedì e oggi è il minimo a due tre o quattro sedute compra è un modo diverso per e come si dice per per dire la stessa cosa per dire sempre un impervenduto di breve quindi se lunedì e il mercato viene da un attimo di debolezza compra rivendi il mercoledì in chiusura oppure in apertura come ti pare stop loss e via questa è l'equity line sull'S&P 500 notare che vi faccio vedere l'equity line ad andamento aperto non vi faccio vedere quella con solo le operazioni chiuse che sarebbe quella un po marchettara diciamo no se volessi rendere meglio la strategia non vi faccio vedere quella proprio in itinere no per darvi l'idea o anche un po della difficoltà no nel seguire questa strategia è un'equity line vedete che cresce che risultati ha dato ha guadagnato soldi ha un profit factor di 1.83 cioè vuol dire che per ogni dollaro messo nel piatto tenete tornati indietro 1.83 ha una profittabilità del 60% 59 vuol dire che su 100 operazioni 60 si sono chiuse col segno più e 40 col segno meno ha un average trade di 138 dollari a operazione e un drawdown dove ho messo acqua di fianco vedete che sia a posizione aperta o che sia a posizione chiusa assolutamente gestibile il dilemma è sempre uno ok abbiamo trovato un titolo su cui questa strategia darà pochi segnali perché lavori lunedì se c'è una condizione ma funziona su quello funziona sull'indice funziona anche su altro andiamo a vedere l'unico modo per fare qual è è quello di testare attenzione tutte le cose che vi sto dicendo dal carattere del sottostante il bias dei giorni della settimana e questi dati voi li avete solo e soltanto se fate trading meccanico con un approccio meccanico cioè vi dotate o di excel e un po di olio di gomito oppure di software come pro real time o visual trader per stare in italia 3 station multi certi in questo caso le statistiche sono di 3 station in modo tale che voi codificando la strategia in poche righe in questo caso di codice avete esattamente i dati di come questa strategia si è rivelata palesata nel passato attenzione a un dato in genere la classica obiezione è ma se la strategia ha funzionato nel passato non è detto che funzionerà nel futuro oppure a seconda obiezione i backtest non funzionano allora i backtest non funzionano se uno non li sa fare quindi il dato è quello come la matematica non funziona no la matematica è precisa poi se uno non sa fare i conti precisi 2 più 2 gli da 5 mi dispiace per lui è una sua pecca che si trascina dall'elementare ma i backtest funzionano questo è il primo dato il secondo dato è più interessante in realtà che è quello di se ha funzionato nel passato perché deve funzionare nel futuro io non ho nessuna certezza che funzionerà nel futuro però attenzione se una strategia ha funzionato nel passato io posso legittimamente sperare che continuerà a funzionare se una strategia non ha mai funzionato nel passato perché devo pensare di essere così presuntuoso che da oggi che comincio a utilizzarla io comincerà a essere profittevole ma è assolutamente impossibile quindi i backtest non sono la bibbia non sono la verità scolpita ci sono strategie che funzionano funzionano per tanti anni poi all'improvviso smettono di essere profittevoli hanno un degrado delle performance capita però quantomeno per gli anni che l'hai utilizzata hai utilizzato una strategia che avevi verificato che era profittevole prima di utilizzarla quindi dicevo questa strategia nel passato ha funzionato funzionerà anche su altri titoli sottostanti andiamolo a verificare questo abbiamo detto l'ETF SPY quindi quello con sottostante l'SMP500 ah qui ci sono altri dati vedete questa è una strategia strana cioè una statistica strana o meglio è elaborata in modo strano vi dice dal 2001 al 2021 come si sarebbe comportata dal 2002 al 2021 cioè vi dice su archi temporali diversi come la strategia si sarebbe comportata perché ve lo faccio vedere per farvi vedere che non è un fulmine di guerra perché non fa tantissime operazioni ma indipendentemente dall'anno negli ultimi vent'anni in cui avremmo iniziato a utilizzarla avrebbe sempre prodotto un risultato positivo e non è banale sul Nasdaq funziona? sì anche sul Nasdaq funziona poi attenzione ci sono alcuni paletti da dire forse non li ho specificati ma ci sono delle fasi di drawdown vedete questa cioè la fase dove la strategia smette di funzionare avete guadagnato bene si rimangia parte dei guadagni e attenzione ci sono due problematiche la prima è monetaria avevo cos'era 12.000 dollari me ne ritrovo 10.000 monetario problema monetario ma c'è un altro problema che è la componente psicologica come reagisco psicologicamente nel momento in cui ho un drawdown perché il drawdown ha due caratteristiche al di là dell'incidenza monetaria che non è banale c'è anche l'incidenza temporale quanto dura questa fase avversa perché se perdo 2.000 dollari in un'operazione e poi il mercato e scusatemi la strategia riprende a salire beh ho perso quei 2.000 dollari quella volta però riprendo subito il ritmo sono subito contento no? e come la Juve dei bei tempi no? perdeva una partita ma le altre rivinceva a volte però funziona come la Juve di quest'anno dove sono più le partite che perde di quelle che vince e quindi c'è qualcosa a livello emotivo ecco attenzione perché tutti questi dati sono tutti da considerare quando fate trading meccanico che è l'approccio che vi consiglio oltre a vedere se la strategia è stata profittevole potete vedere come è stata profittevole con quale drawdown cioè quanto si è rimangiato del capitale quanto è durato il drawdown in termini di tempo quanto ci ha messo a tornare a pareggio sono tutti dati importanti a livello psicologico perché spesso e volentieri finché la strategia va bene siamo tutti bravi a seguirla ma quando comincia il drawdown essere costanti nel seguirla diventa estremamente complicato ed è una problematica o monetaria se non abbiamo capitale per seguire la strategia o psicologico e sono dati che dobbiamo conoscere prima di iniziare a utilizzare questa strategia sono quelle cose che nel trading non vengono dette ma in realtà fa la differenza queste e quindi mi raccomando questo è un dato importante allora dicevo su spy S&P 500 facciamo e Nasdaq funziona benissimo andiamo sui singoli titoli qui ho preso una carrellata di titoli importanti Apple su Apple funziona uno dice beh tanto Apple è sempre salita sì è vero però qui è salita con molta regolarità per assurdo si è incartata nell'ultimo periodo senza fare danni ma nelle ultime settimane non sta brillando questo è invece Facebook anche su Facebook dà dei buoni risultati non è un titolo quotato da chissà quanti anni ma l'andamento è positivo poi anche qui vedete c'è piattume qui si rimangia di netto un capitale qui sta fermo cioè seguire questa questa strategia su questo titolo che dura mesi come drawdown e come difficoltà non è banale non è banale Johnson & Johnson anche qui vedete ha avuto una lunga lateralizzazione poi ha ripreso a salire questo McDonald anche qui vedete è una buona equity però ha avuto una fase di lateralità di drawdown e poi ripreso a salire il segreto per seguire questa ok due minuti il segreto per il segreto la parola segreto nel mercato non mi piace mi sa di di guru americano ti svelo il segreto no un cazzo il il come dire il 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 se mi viene trucco vabbè comunque ci siamo capiti il segreto per riuscire a seguire questa strategia è non concentrarsi nell'applicarla su un solo sottostante ma nel lavorarla su un paniere per cui quando perde di regolarità su un sottostante te lo recupera si spera su un altro sottostante quindi in un momento in cui magari il titolo di prima questo Johnson & Johnson andava vedete qua in laterale e non andava bene al contrario invece qui c'era magari McDonald che invece continuava a performare quindi ragionare di panieri di azioni su cui applicare quella strategia e mi raccomando se si costruisce il paniere non mettete al suo interno soli i titoli su cui avete delle equity line bellissime mettete anche i titoli che hanno equity line di questo scusate mi torno indietro come questa come questa cioè anche non regolarissime a volte perché questa ad esempio qualcuno potrebbe scartarla invece secondo me questa ha assolutamente da mettere nel paniere perché ha funzionato ha smesso di funzionare per un periodo senza fare danni grazie a Dio e poi ha ripreso questo è un titolo che nel paniere secondo me a pieno titolo deve essere compreso scarterei proprio quelli che hanno quell'equity verso il basso che allora capisci che proprio questo è un altro esempio JP Morgan un bancario questo è Nike Nike quella delle scarpe dell'abbigliamento anche qui vedete qua una bella lecca giù quando sei lì non è simpatica questa cosa poi ha fatto ha fatto il rialzo però lo sai dopo perché noi quando guardiamo quest'equity abbiamo una deformazione noi diciamo che bello siamo qui noi non siamo in basso noi siamo in cima noi siamo qua in alto cioè io questa strategia ve l'ho raccontata oggi se qualcuno la vuole mettere in pratica comincerà cos'è oggi venerdì comincerà lunedì tra l'altro che è anche giorno ideale e quindi è da lì che parte quindi lui è qua in alto se parti subito con un drawdown con un'operazione di questo tipo o più di una non è simpatico quindi chiedersi sempre ma se applico questa strategia sono poi in grado di sopportare un drawdown del 4, 5, 6, 10% 20% perché a volte ci sono delle ottime strategie io ad esempio ho fatto anni fa un corso io ho sempre saputo confrontandomi anche con molti colleghi che i drawdown devono essere contenuti e io non sono mai stato così tanto dell'idea cioè sì è vero non è che deve fare un 40-50% di drawdown per carità parlo di trading non di investing però ho sempre verificato dai test sulla mia pelle che le strategie che sono più robuste nel tempo sono quelle che hanno meno condizioni al loro interno e che necessariamente hanno delle equiti meno belle sono più robuste cioè sono più longeve ma hanno chiaro dei drawdown della regolarità minore per anni non è che quando raccontassi queste cose mi guardavano tutti convinti di questa cosa poi anni fa ho fatto un corso in America con Kevin Davy non so se lo conoscete ha vinto un campionato del mondo è arrivato un paio di volte secondo tuttora se è riscritto quest'anno è nei primi posti parlo del campionato mondiale con denaro reale quindi è uno che ha il trading da del tu ovviamente usa 3station multichest eccetera e finalmente ho trovato qualcuno che diceva esattamente le cose che dicevo io cioè che condivideva il mio punto di vista cioè anche lui non lavora sul inserire troppi parametri per non rendere troppo smussata l'equity line ma preferisce strategie che prese singolarmente possono avere un po' più di drawdown ma diversificando quindi applicando strategie con logiche diverse se ha mercati diversi ecco che recupera regolarità nell'equity complessiva e questo è il consiglio che mi sento di darvi frutto della mia esperienza e anche quella del buon Kevin questo è Nike questo è Visa vedete che le fasi di drawdown ci sono Visa ad esempio in questo momento è in drawdown questa strategia nell'ultimo periodo su sto titolo ha preso schiaffi però storicamente è andata bene questo è Tesla Amazon Amazon continua a andare bene speriamo che continuerà ma avverrà anche il momento su cui su Amazon andrà piatta prenderà due schiaffi stile Bud Spencer via Alphabet anche qui vedete ha funzionato bene poi ha smesso di funzionare e qui stiamo parlando di tre anni non stiamo parlando di tre giorni tre mesi tre anni e poi ha ripreso a funzionare tuttora funziona bene provate a pensare se uno avesse staccato cioè non avesse utilizzato questa strategia su questo titolo qui avrebbe perso commissioni perso soldi e poi avrebbe perso tutto quello che è venuto Paypal Paypal è quotato da poco abbiamo ancora uno storico breve sembra positivo è nel mio paniere per applicare questa strategia poi vedremo fra un paio d'anni vi aggiorno per vedere Paypal che cosa ha dato quindi insomma il dato è questo che cosa ho fatto ho usato un approccio meccanico ho testato prima il carattere del sottostante poi il bias settimanale e gli uniti e ho verificato su base statistica se la strategia ha funzionato come ha funzionato e poi mi sono creato il paniere eccetera come vi dicevo ho usato l'RSA a due periodi ma si può tranquillamente usare ad esempio un minimo a X sedute cioè se il minimo ha quattro sedute due sedute che sul mercato americano funziona bene potete utilizzare un pattern di prezzo e lì ce ne possono essere vari oppure un'altra cosa che non vi ho detto ma che può essere utile è la seguente io vi ho detto vendete mercoledì o in apertura o in chiusura resta valida la stessa la cosa potete fare un'altra cosa che è curiosa cioè metà posizione la chiudete ad esempio mercoledì in apertura o mercoledì in chiusura ma l'altra metà agite con il trailing profit non usate il trailing dei software ma createvelo voi cioè mettete sotto il minimo del giorno o cose del genere perché i trailing dei software sbalinano vi fanno vedere delle equiti più belle di quello che non sono per motivi che non entrano nel merito però il concetto può essere quello potete smezzare l'uscita in questa strategia non potete smezzare l'entrata cioè non vi conviene la vota è stata ma non è efficiente compro il lunedì in chiusura e poi magari il martedì con un ordine limiti incremento non è un approccio da ingresso frazionato questo è un ingresso all in diciamo così l'uscita invece può essere frazionata che è una cosa curiosa perché in genere nelle strategie min reverting che non hanno il filtro del giorno invece l'ingresso frazionato ed uscita in un colpo solo ha successo in questo caso il contrario ma ve ne accorgete perché fate i test occhio queste cose purtroppo non si vedono vabbè qui ho scritto un libro sugli oscillatori se volete approfondire l'argomento credo che ci sia nel corso della Epli più importante se volete interagire con me se volete le slide qui sotto c'è il mio indirizzo mail g.bellelli.biz vi mando le slide molto volentieri sono sui social gestisco un gruppo chiuso questo investire con Gabriele Bellelli se volete chiedere l'iscrizione siete benvenuti è gratuito è chiuso perché faccio minima situazione ingresso voglio dire chi mi chiede l'accesso per eliminare tutti i profili fake eccetera e quindi siete benvenuti del modo più diretto per parlare commenti reagire con me e confrontarsi anche con altri colleghi amici eccetera su questi dati ok io vi ringrazio per l'attenzione non è